Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'obbligo del Green Pass, l'estensione dell'obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori che scatta da domani. Si temono dei problemi in particolare nel settore dei trasporti, il rischio è quello di proteste, scioperi improvvise e blocchi della circolazione stradale. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Alberto Carreras. Da domani via il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Sarà una giornata ad alta tensione, annunciati scioperi, blocchi e presidi da parte di portuali coinvolti i maggiori porti italiani e soprattutto sul fronte dei trasporti. Un esercito di autisti che fa circolare il 90% delle merci su strada. Molti stranieri non vaccinati oppure vaccinati con vaccini non riconosciuti. Le associazioni di categoria hanno chiesto un rinvio del Green Pass di almeno tre mesi. Per protesta si temono possibili blocchi alla circolazione. A Milano tra ATM e Trenord sono già state annunciate quasi 400 assenze di personale senza Green Pass. 272 per ATM e un altro centinaio per Trenord. Ma il rischio è che i numeri possano crescere ulteriormente e compromettere la regolarità del servizio. In base alla legge poi chi la contesta potrebbe rimanere senza stipendio per alcuni giorni. C'è chi paventa anche il rischio dello sciopero mascherato. Chi contesta il Green Pass ha la possibilità di organizzare una serie di scioperi con tutta la confusione che si creerebbe di conseguenza. Le aziende possono verificare la certificazione in anticipo ma non sono previste sanzioni per quanti non rispondono per tempo. Esiste solo un rischio disciplinare. Intanto i sindacati di base sono tornati a chiedere tamponi gratis. In ATM e Trenord potrebbe esserci un 15 per cento di dipendenti non vaccinati in linea con quanto accade a livello nazionale. Persone che dovranno fare il tampone e già molti hanno lanciato l'allarme soprattutto tra i farmacisti che lamentano che già oggi ci sono pochi tamponi e se le richieste dovessero aumentare sarebbe impossibile farvi fronte. E da domani anche il Comune di Milano controllerà il possesso del Green Pass a tutti i dipendenti che sono dislocati in 500 sedi. Le verifiche riguarderanno il personale dipendente ausiliario, volontari, visitatori e chiunque svolga attività nelle sedi dell'amministrazione comunale ma saranno esclusi i cittadini che vorranno usufruire dei servizi. Da Palazzo Marino non sanno per motivi legati alla privacy quanti siano i dipendenti che potrebbero non avere il certificato verde. Il tema della mancanza di personale potrebbe porsi ad esempio agli sportelli aperti al pubblico dove in caso di assenza il personale di back office è pronto a subentrare. Il Comune ha scelto di controllare il Green Pass all'ingresso e non negli uffici. Dalle 7.30 fino alle 10.30, cioè la fascia oraria in cui avviene l'entrata in servizio della maggior parte dei dipendenti, il controllo verrà effettuato all'ingresso di ogni sede su tutti i lavoratori. Nelle sedi dove è già presente personale della polizia locale i controlli verranno effettuati da loro. Nelle altre sedi potrà controllare chi è addetto al servizio di portineria o di accoglienza. Nelle sedi che hanno meno di 50 dipendenti il datore di lavoro dovrà identificare una persona che farà il controllo, che potrebbe essere chi si occupa già del controllo ad esempio della temperatura. A partire dalle 10.30 fino alle 13, se la sede non dispone di un presidio all'ingresso, saranno i direttori datori di lavoro a verificare con controlli puntuali o a campione il permesso della certificazione. I sindacati non sono però soddisfatti delle modalità di controllo identificate dal Comune prima di tutto perché non c'è stato un accordo e un confronto, ha spiegato Giovanni Molisse portavoce RSU del Comune di Milano, ma l'amministrazione ci ha convocati, dice questo portavoce, per comunicarci quello che aveva deciso. Inoltre secondo i rappresentanti dei lavoratori c'è un controllo molto rigido sulle scadenze del Green Pass per chi si sottopone a tampone. Un lavoratore potrebbe entrare al mattino col Green Pass ancora valido, ha spiegato Molisse, e poi rientrare nel pomeriggio poco ore dopo in un controllo a campione e avere il certificato scaduto. In questo caso potrebbe essere sanzionato e avere un richiamo disciplinare. La maggioranza delle imprese del terziario a Milano è pronta ad affrontare l'applicazione del Green Pass obbligatorio. Sentiamo. A Milano l'82% delle imprese del terziario è pienamente pronto per l'applicazione del Green Pass nei luoghi di lavoro da domani e il 78% ritiene che non vi saranno particolari difficoltà. I dati elaborati dall'ufficio studi emergono dall'indagine di ConfCommercio Milano compiuta con la rete associativa di categoria e di via. Per il 43% si tratta di imprese fino a 9 dipendenti, il 27% fino a 19, il 14% fino a 49 dipendenti e il 16% oltre i 49 dipendenti. Le criticità maggiori riguardano complicazioni organizzative nei controlli in entrata e il dover far a meno di personale sprovvisto del Green Pass. Non mancano inoltre problematicità per situazioni specifiche come le imprese che lavorano a ciclo continuo 24 ore per le quali è difficile la verifica del Green Pass nelle ore notturne. La grande maggioranza delle imprese del terziario milanese è pronta per l'applicazione del Green Pass. Ci sono però tuttavia degli oggettivi criticità ancora. Innanzitutto il tema dei controlli, il controllo nei confronti soprattutto di quelle imprese a ciclo produttivo continuo e secondariamente la sostituzione del personale dipendente non vaccinato. Tuttavia però l'applicazione del Green Pass è fondamentale per le nostre imprese del terziario ed è lo strumento utile che ci permetterà di uscire definitivamente dalla crisi pandemica. E si apre domani la stagione termica che fino al 15 aprile consentirà di accendere gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi fino a un tempo massimo di 14 ore al giorno. Lo ricorda il Comune di Milano. Come previsto dalle normative vigenti l'amministrazione ricorda che il funzionamento dell'impianto termico deve essere impostato per garantire una temperatura nelle abitazioni di 20 gradi centigradi con una tolleranza di 2 gradi in più o in meno. Il Comune di Milano mette a disposizione lo sportello energia che si può contattare via telefono o via mail per informazioni e consulenza. A questo proposito l'assessore all'ambiente Elena Grandi ha detto che il clima è ancora mite ed è importante dove si può e fino a quando le temperature lo consentiranno rinviare l'accensione dei termosifoni o comunque mitigare il grado di calore degli impianti. Chiedo ai cittadini un gesto di responsabilità ambientale. Siamo ormai tutti consapevoli dell'impatto che il riscaldamento degli edifici ha sui livelli di inquinamento atmosferico e sulle emissioni di CO2 e per questo siamo chiamati a fare scelte consapevoli anche negli ambienti domestici e di lavoro. Questo quanto affermato dal neossessore all'ambiente Elena Grandi. Laddove c'è una commemorazione il saluto romano non è reato, lo ha stabilito la Cassazione. sentiamo. Il saluto romano in un contesto commemorativo non è reato, lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, la condanna in appello dei quattro imputati nel processo per i fatti del 25 aprile 2016 a Milano, quattro che riunitisi al campo 10 del cimitero maggiore di Milano per commemorare come ogni anno i caduti della Repubblica Sociale Italiana misero in atto la cerimonia del presente facendo il saluto romano. Tra i 300 presenti quel giorno vennero identificati e indagati in quattro per l'articolo 2 della legge Mancino. In primo grado vennero tutti assolti perché il fatto non sussiste con riqualificazione del fatto in articolo 5 della legge Scelba. L'appello proposto dal pubblico ministero portò all'udienza in corte d'appello che riqualificò nuovamente il fatto condannando imputati a due mesi e dieci giorni di reclusione. Impugnata la sentenza il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla difesa e la conferma della sentenza di appello. Al termine della discussione la Cassazione ha dato ragione alla difesa annullando senza rinvio la sentenza di appello perché il fatto non sussiste. Morale, il saluto romano in un contesto di commemorazione non è reato. Un episodio di cronaca stava passeggiando in piazza Meda in pieno centro dove è stato raggiunto da un ladro che è riuscito a sottrargli il Rolex del valore di 35 mila euro. La vittima, un 55enne italiano, ha cercato di opporre la resistenza dalla quale è nata una piccola colluttazione ma alla fine il malvivente è riuscito a scappare con l'orologio. Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia di stato hanno effettuato i rilievi del caso. La polizia di stato ha anche arrestato attorno alle 23 di ieri in via l'Etiopia, zona bandenere, un 23enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo i poliziotti hanno fermato il ragazzo che aveva con sé 80 grammi di marijuana. Successivamente i controlli si sono allargati all'interno della sua casa dove gli agenti hanno trovato altri 100 grammi di marijuana e 82 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti. Cambiamo argomento, andiamo a vedere i dati relativi al covid in Lombardia, dati che sono sostanzialmente in linea con quelli dei giorni precedenti, c'è solo un leggero incremento che riguarda i decessi che salgono a 10, numero comunque lontano per fortuna, da quelli registrati negli scorsi mesi e l'anno scorso in questo periodo. Nel complesso i nuovi positivi sono 273 con un tasso di positività dello 0,4%, i ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di 5 mentre i ricoverati non in terapia intensiva diminuiscono di 15. I tamponi effettuati quest'oggi sono stati 66.424. Andiamo a vedere poi i casi provincia per provincia. Allora Milano 100 nuovi casi dei quali 43 a Milano città, a Bergamo e Brescia 37 casi, nessun caso a Como, 5 nuovi casi a Cremona, 10 casi a Lecco, 5 casi a Lodi, 1 caso a Mantova, 36 casi a Monzebrianza, 18 casi a Pavia, 2 casi a Sondrio e 7 a Varese. Questi sono i numeri relativi al covid, i dati di oggi, giovedì 14 ottobre. E ora parliamo di vaccini, rimanendo quindi in abito covid, perché da novembre la terza dose si potrà fare anche in farmacie. Le farmacie scendono in campo e da novembre potranno somministrare il vaccino con Minerti di Pfizer e si aggiungeranno la rete di centri già attivi sul territorio. Si supera così l'impasse dei giorni scorsi. Secondo il piano iniziale di Regione Lombardia, le farmacie avrebbero dovuto usare il farmaco Spikevax di Moderna, di più semplice impiego e conservazione per le terze dosi, ovvero i richiami. Le prenotazioni si sarebbero dovute aprire già l'11 ottobre, ma la collaborazione all'inizio della settimana è stata congelata dalla Direzione Generale Welfare, perché al momento le autorità regolatorie non avevano sdoganato l'uso di Spikevax per questo scopo. Ieri però è stato raggiunto un nuovo accordo che permetterà alle farmacie di iniettare ai pazienti Pfizer approvato per le iniezioni booster. La situazione si è così sbloccata. Apriremo le prenotazioni dalla prossima settimana attorno al 20-25 ottobre, ha spiegato Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia. Ci si registrerà direttamente in farmacia, non sul portale di poste. Le iniezioni cominceranno tra il 2 e il 5 di novembre. Al momento sono chiamati a proteggersi con la terza dose, gli over 80, il personale sanitario, gli immunodepressi e trapiantati. Le prime due categorie possono ricevere la nuova somministrazione a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda iniezione. Nel loro caso si parla di iniezione booster che aiuta a potenziare la risposta del sistema immunitario. Per i fragili invece l'intervallo minimo è di 28 giorni e si parla di iniezione addizionale a completamento quindi del ciclo vaccinale. Per questo scopo è possibile utilizzare il vaccino moderna disponibile nei centri vaccinali. Diversamente dagli hub, le farmacie però non offriranno in contemporanea la vaccinazione anti-influenzale. I pazienti che ne hanno diritto gratuitamente potranno richiederle in seguito al proprio medico o prenotarsi nei poli dedicati a partire dal 28 ottobre. Parliamo ora di scuola, di transizione ecologica che è ancora molto lontana. Chi lo dice? Lo evidenzia lega ambiente a partire dai dati del ventunesimo rapporto ecosistema scuola, la ricerca annuale dell'associazione ambientalistica sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture dei servizi messi a disposizione delle istituzioni scolastiche sulla base dei dati forniti dai comuni capoluogo di provincia. Nei dossier 2021 i problemi maggiori, spiega lega ambiente, si riconfermano nell'edilizia scolastica. In Lombardia lo 0,5% degli edifici sono costruiti secondo i criteri della bioedilizia, 0,9% a livello nazionale. Il 10% utilizzano fonti di energia rinnovabile, 16,7% del nazionale. Inoltre in Lombardia hanno il certificato di agibilità il 69,4%, ma solo il 50% a livello nazionale. E ancora, solo pochi edifici hanno messo in campo soluzioni per la mobilità pubblica e sostenibile. L'11,8% hanno un servizio di pedibus o percorsi sicuri casa-scuola. E c'è ancora troppa plastica, usa e getta in mensa. La buona notizia però, sottolinea lega ambiente, è che la massiccia campagna per la diffusione delle borracce, per contrastare l'uso delle bottiglie di plastica, ha fatto sì che l'abitudine di bere l'acqua dal rubinetto sia consolidata in tutte le realtà scolastiche lombarde. Questo è quello che stabilisce questo report di lega ambiente. Parliamo ora di monopattini, un tema di cui si è discusso molto nelle scorse settimane. Ebbene, la Commissione Trasporti e Infrastrutture del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta di legge al Parlamento che prevede la modifica dell'attuale normativa sui monopattini. Lo comunica l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato. Il provvedimento, illustrato dall'assessore, prevede l'obbligo del casco all'assicurazione per danni a terzi. E rispetto alla prima stesura del testo originario, la possibilità di guida ai sedicenni e non più solo ai maggiorenni, come precedentemente indicato. Terminato il passaggio nelle commissioni consigliari, la proposta sarà inserita all'ordine del giorno del Consiglio regionale e, se approvata, verrà trasmessa al Parlamento. L'assessore Decorato ha illustrato i dati sull'incidentalità dei monopatti linee elettrici. Dal giorno 1 giugno 2020 al 13 ottobre 2021 sono state 773 le richieste di soccorso per sinistri con questi mezzi ricevute da Areu solo a Milano. Decorato nel corso dell'intervento ha sottolineato che l'obiettivo della proposta di legge non è quello di eliminare la micromobilità dalle strade, bensì di regolamentarla per avere una maggiore sicurezza. Ha auspicato che l'appello lanciato da Regione Lombardia possa essere una spinta utilizzata per l'emanazione di una legge a livello nazionale. Mobilità sostenibile e dolce non significa mobilità sicura. L'assessore ha inoltre evidenzato che le persone con disabilità visiva, ipovedenti e non vedenti, con l'arrivo dei monopattini hanno visto aumentare le loro difficoltà in termini di libertà di movimento. Era un episodio di cronaca. Si presentavano gli uffici postali di Milano per incassare il reddito di cittadinanza, ma non sapevano parlare in italiano. Gli ha scoperti la Polizia di Stato con il compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni di Milano che ha dato avvio ad un'indagine che ha portato all'individuazione di oltre 50 persone che hanno percepito o tentato di percepire il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Dalle indagini è emerso che esisteva una vera e propria organizzazione criminale che organizzava l'ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, dall'Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere le carde che ritiravano dietro presentazione di documenti falsificati. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dal Servizio Polizia Postale e della Comunicazioni di Roma, è iniziata nel settembre del 2020 ed ha portato nel tempo all'arresto di due persone trovate in possesso di documentazione falsa, all'esecuzione di otto perquisizioni e al ritrovamento di carte prepagate ricevute di presentazione dell'istanza del reddito di cittadinanza nonché dei messaggi che gli interessati si scambiavano via chat per concordare viaggi e permanenza sul territorio italiano. Domenica 17 ottobre, nel giorno della festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale, Monsignor Delpini in Duomo consegnerà il mandato ai partecipanti ai gruppi Barnaba, costituita in ogni decanato della Diocesi per avviare il cammino sinodale. Sentiamo Anna Maria Braccini. Comprendere il territorio, conoscere le buone pratiche che già esistono e immaginarne di nuove, allargare gli orizzonti al di là della quotidiana attività ecclesiale per camminare insieme nel presente guardando al futuro con competenza e fantasia. Un obiettivo certo ambizioso per il quale è chiaro che occorrano quelle che si potrebbero chiamare cinghie di trasmissioni, capaci nel concreto di intercettare positività e negatività. Per questo, in vista delle assemblee sinodali decanali, sono nati i gruppi Barnaba, a cui l'arcivescovo, domenica 17 ottobre, nella festa della dedicazione della Cattedrale, consegnerà in Duomo il mandato, avviando la consultazione per il sinodo dei vescovi che Papa Francesco ha aperto domenica scorsa in San Pietro. Il cammino per una chiesa sinodale, che il Papa ha raccomandato con tanta forza e insistenza a tutta la chiesa e alla chiesa italiana in modo particolare, a Milano nella diocese di Ambrosiana lo interpretiamo come il dare una realizzazione territoriale, capillare a questa forma sinodale, cioè al convergere di persone, ciascuna con la sua vocazione, la sua storia, per interpretare il territorio, quindi il territorio decanale e trovare i linguaggi e le iniziative della missione. E così vi sarà anche una sorta di simbolico libro, ma anche concreto se si vuole, dove scrivere buone notizie e poi il testo guida del percorso sulle tappe future da compiere. Il titolo è già tutto un programma, artigiani della sinodalità. Bene, era questa la nostra ultima notizia, per chi sta seguendo l'edizione in diretta delle 19.15 del nostro telegiornale, subito dopo la pubblicità, spazio alle previsioni del tempo, poi Nova Stadio TG, il nostro notiziario sportivo e poi Nova Stadio Sprint. Alle 21, come ogni giovedì, spazio ai motori con griglia di partenza. Grazie per averci seguito, restate su Telenova, buona serata. Grazie per aver guardato il video.